Ciao a tutti, buongiorno. Quinto appuntamento del mio diario elettorale. Oggi, anzi, ieri sera alle 21, il pubblico comizio della lista Insieme per Aquilonia. Un pubblico comizio molto partecipato, c'era la presenza di tantissima gente. Durante il comizio ci sono stati gli interventi di Giuseppe Piccolo per gli amici Peppe e di Antonio Caputo per gli amici Bertinotti. Il primo intervento è stato quello di Peppe, un intervento molto tecnico dove lui è toccato il ruolo di descrivere la parte del nostro programma elettorale che riguardava l'amministrazione. Ha descritto benissimo la necessità di snellire le pratiche amministrative, di velocizzare i rapporti con gli enti, con l'unione dei comuni, la realizzazione di un ufficio unico dei rapporti con il pubblico. Insomma, una serie di proposte molto bene descritte che d'altronde con la sua esperienza da segretario comunale ha portato a questa coalizione. Il secondo intervento, quello di Antonio Caputo, si è articolato su due fasi. Una prima fase era il resoconto, più che resoconto, il suo ruolo di minoranza, di opposizione a questa amministrazione Cataldo, dove ha puntualizzato una serie di argomenti specifici che ovviamente lo hanno visto protagonista come minoranza contro l'attuale amministrazione. La seconda parte è stata relativa alla proposta programmatica della lista insieme per Aquilonia, per quanto riguarda il PUC e altre situazioni che vi invito ad andare a vedere su Facebook, sul profilo di Insieme per Aquilonia, troverete il video comizio completo. Si deve registrare purtroppo una nota negativa a fine comizio e molto probabilmente non dovuto a quello che sono stati gli interventi dei due candidati, Peppe e Antonio. Un fatto increscioso che ho difficoltà anche a descrivere e non voglio ne voglio, lo immaginate già. Bene, queste tensioni sociali si devono assolutamente combattere da tutti e due gli schieramenti con i programmi. Tensioni sociali che devono essere assolutamente appianate, si deve lavorare in prospettiva per migliorare questa comunità e non per far sì che ci sia un continuo degrado. Questo è il mio appello, speriamo di smorzare i toni e di rilassarci un po' e di parlare solamente di programmi. Un in bocca al lupo a Vito e a Laura che domani, sabato sera, faranno il loro pubblico comizio. Io faccio il tifo per voi e un ringraziamento anche a tutti quelli che lavorano per tutto lo staff per organizzare i comizi e far sì che tutto possa funzionare al meglio. Ciao, a presto, alla prossima!